Musica Abbiamo qui con noi per la non edizione del Festival di Arte e Fede Marie-Dominique Miseré, di cui si inaugura oggi la mostra La Moisson Mystique. Marie-Dominique Miseré è una religiosa che compie un cammino di perfezione e molti pellegrinaggi, cammini nel vero senso della parola. Gli chiediamo come nascono le sue opere e qual è il senso della sua pittura. On va vous demander quel è l'essence di vostra peintura e come vostri tableaux vont naître. Mi peintura sono una relazione teologica con la parola di Dio. Cosa significa che quando io peisco, io cerco la significazione della parola di Dio, la significazione del mondo. Io cerco a camminare nella parola e nella mia relazione a Dio a traverso la peintura. La mia pittura e le mie opere sono una relazione con la parola di Dio e quindi dipingendo e camminando con la mia opera ricerco una relazione con la parola di Dio e con Dio. Io posso dire anche che io cerco a avere una relazione con l'Eglise a traverso questa peintura, perché ho cercato di sviluppare dei progetti che sono in linea con un gruppo di persone con cui io partage la parola. Per esempio, qui abbiamo diversi tableaux del rosaire e il rosaire è lui-même un cammino che è proposto da l'Eglise per mediterciare la parola di Dio e con la vita di Dio. E quindi prendo il trave dell'Eglise per mediterciare la parola di Dio e fare dei tableaux e per meglio comprando perché l'Eglise ci dona questo trave per approccare la parola di Dio e la città. a chiesa. È tutto, grazie, merci.